Buongiorno a tutti. Proprio Giuseppe è il mio secondo nome, però ci sono delle illazioni su una certa bisnonna che a fine ottocento, Garibaldi era passato da Milano, dove ha sposato anche quella di Lecco. Il bisnonno in effetti aveva combattuto con Garibaldi, non vorrei che anche la bisnonna abbia combattuto con Garibaldi. Allora, è chiaro che Enrico Beruschi è un mio carissimo amico e ho il piacere veramente di averlo qui con me. Parliamo con lui di tante belle cose, ma soprattutto, lo sai benissimo, l'occasione è data dal fatto che quest'anno corre il centenario della nascita di una persona che tu amiri moltissimo, e sul quale ti sei molto, come si può dire, spinto in avanti nel leggerlo, nel rappresentarlo, eccetera, che è Guareschi. Giovannino Guareschi. E ho preso un brano, la salsa di pomodoro, la salsa veramente si chiama, da un Bertoldo del 40. Ho chiesto il permesso di farla ad Alberto e Carlotta, l'ho trasformato un po' e ne ho fatto un pezzo da cabaret, che è andato anche in televisione, molti si ricorderanno la sberla nel 78. E' rimasto in mente, adesso faccio delle letture, proprio dal corrierino delle famiglie, dallo Zibaldino, quelle cose che mi allietavano da giovane, proprio da piccolo, e vengono abbastanza bene, c'è gente che gradisce, perché Guareschi è un incredibile personaggio, un incredibile scrittore, valido comunque. Valido comunque anche adesso, perché mi dicevi giustamente, ma è una cosa che ho verificato anch'io, che anche moltissimi giovani sono attratti da Guareschi. Beh, è successa una cosa strana sotto un certo aspetto, ma piacevolissima. Al meeting di Rimini, sapete, il meeting di Rimini è un luogo dove veramente si incontra una cozzaglia di brava gente, di bella gente, di belle facce. E parlando di Guareschi, c'era una mostra molto bella, mi hanno chiamato per fare queste letture, e ci avevano dato una saletta da 300 posti, c'era 3.000 persone, ma soprattutto giovani. Giovani che si sono seduti per terra, perché non c'era posto, e sono stati lì a ascoltare un'ora e mezza queste letture del Corrierino delle Famiglie, che io dico… Io intanto, se mi permettete, scusami, ma lo metto in favore di telecamera, perché l'abbiamo qui naturalmente, visto che qui dobbiamo parlare di libri, lo facciamo anche vedere. Giusto, parlare di libri. E la cosa strana di questo Guareschi, che è 100 anni che è nato, ma è anche 40 anni che è morto, e continuano ad uscire libri, inediti, più o meno inediti, rifacimenti a cura sempre dei figli, e di noi del Club dei 23, perché c'è questo Club dei 23, sai che è Guareschi? Ecco, dimmi, perché il Club dei 23? Perché Manzoni diceva che aveva 25 lettori, Guareschi, essendo più modesto di Manzoni, dice i miei 23 lettori, e quindi hanno fondato il Club dei 23. Spiegami perché non 24, perché scusa, anche 24 sarebbe stato meno. Però troppo vicino a Manzoni. Troppo vicino, eh, sì. Io ho una… tra l'altro, parlando… adesso mi è venuto fuori così il Manzoni. Una mia osservazione… sto fermo, eh, cara telecamera, non mi muovo più, perché con la coda dell'occhio ho visto il monitor e camminando così ondeggiavo e la gente che ci guarda poi dice quello lì mi fa venire il mal di mare. Mal di mare, sì. Non è vero, io parlo tranquillamente. E recentemente, con quelle… siamo in televisione? Sì, sì, sì. Siamo in televisione. Siamo in televisione. Per bacco! Ma ci sono delle camere perfettissime, quando facevo le telecamere che usavo io erano a carbone, proprio c'era dietro quello che buttava dentro a carbone. Che buttava dietro a carbone. No, ma con tutta questa confusione, questi dibattiti, queste esagerazioni di urla, di talk show, eccetera, si guarda, io dico basta leggere Manzoni e Guareschi, uno scrivendo nell'Ottocento e parlando del Seicento ha messo in ballo proprio l'umanità, sono cose che si ripetono, sono già dette. E Guareschi invece con un lasso di tempo più breve, ma nei suoi racconti, che vanno dal Don Camillo al Corrierino, al marito in collegio, veramente ha previsto, ma soprattutto negli scritti politici, ha previsto con 40 anni d'anticipo quello che succedeva. Quindi io dico uno, si legge quei due lì, ci sono anche le figure, bel tranquillo. Poi se volete comprare libri. Infatti, infatti, infatti. Senti, io penso che nei confronti dei giovani valga senz'altro anche il fatto che hanno comunque sentito nominare Guareschi, eccetera, però anche conti moltissimo la continua riproposizione sulle varie televisioni di tutta la serie dei film dedicati a Don Camillo e a Pepone. Certo, che continuano a fare ascolti, perché poi, tra l'altro, sono così piacevoli, così recitati bene, oltre che il concetto primario proprio anche la recitazione, che veramente ci si ritrova a riguardarli perché fa piacere come fa piacere rileggere anche dei libri di Guareschi, dei pezzi. Cioè io devo dire che avevo cinque anni, non avevo ancora cinque anni e ho imparato a leggere sui manifesti del referendum, perché era scritto i grossi. Subito dopo in casa mia arrivava il candido, il corriere e il candido, e io ho cominciato a leggere lì. E il corrierino delle famiglie, un papà, una mamma, un figlio, maggiore dopo tre o quattro anni la figlia. È successo anche in casa mia. Una maestra coraggiosa aveva fatto leggere qualcosa a mio figlio, che è tornato a casa e mi fa e mi ha detto, è papà, ma quel tuo amico lì, perché sapeva che in casa mia ci sono tutti i libri di Guareschi, quel tuo amico lì ci conosceva, perché sembra la notte. Quindi è attualissimo ancora, naturalmente con sistemi diversi, perché per esempio quando parlo della salsa di pomodoro, parla di un telegramma che parte e arriva la risposta il giorno dopo. Se adesso lo diciamo ai giovani, che parte un telegramma e arriva, dove abito io la posta prioritaria arriva tra i sette e nove giorni, di solito gli inviti mi arrivano dopo l'evento e così mi salvo e riesco a stare in casa qualche sera. Sì, anch'io gli inviti cerco di evitarli. Senti, tu… Perché stare in casa, non è mica facile stare in casa, perché uno c'è la moglie è bellissimo. Senti, ma scusami, tu molto spesso fai questi accenni a tua moglie, la quale naturalmente, come si può dire, non viene a saperlo, perché questa trammissione per esempio eviterai accuratamente di fargliela vedere, visto che hai fatto questo accenno particolare. No, no, lo viene a sapere, si diverte anche lei, anzi ti dirò che quando in prima fila c'è mia moglie e io faccio quegli spettacoli a ruota libera e parlo di lei, si diverte con un'amata, perché credo che la cosa che la diverta di più è il fatto che io dico delle cose vere, ma sono così assurde che sembrano manzate e la gente ride e lei si diverte, ride e poi dice come sei scemo. Ma quando è in buona. Senti, tu da qualche tempo ti sei dedicato, oltre che naturalmente alla recitazione, anche alla regia. Qual è la spinta, diciamo? Da dove viene questo? Chi lo sa, io ho cominciato con una regia lirica che mi ha affidato il maestro Rendine a Chieti, un barbiere di Siviglia di cui vado orgogliosissimo, la mia passione lirica che per 40 anni è rimasta, io ero uno, a 16 anni andavo alla Scala a vederla a Callas, capisci? Riuscivo a perdere l'ultimo Trump e tornare a casa Scala, portati cinese a piedi, solo per il piacere di vederla uscire, una volta ho fatto anche un baci a mano, queste cose, poi per 40 anni è rimasta sotto, come un fiume carsico, zampilla di nuovo in pieno e ho delle idee, l'ultima cosa, ho fatto parte quest'estate, tipo Elisir, Vedova, Barbiere, queste cose, ma la serva padrona, ecco la serva padrona con la Milano Classica, dove io dico, se una cosa, per Golesi, siamo nel 1733, se una cosa vale ancora dopo 300 anni, può darsi che tra 300 anni valga ancora e allora elimino tutte le cose inutili, ho fatto mobili modernissimi, abiti modernissimi, la soprano mi dice, ma come mi devo estire nella seconda parte, dico mettiti in mente, io ti invito a cena, ti dico una cena elegante, mettiti da bella tusa, ecco, e lei si è messa il suo abitino, quello bello era nel suo abito, bella, tranquilla, perché nei propri abiti ci si muove bene, da fastidio la mia giacca, sfrigola, perché hanno fatto l'osservazione, semmai la tolgo, nei propri abiti uno si sente a proprio agio. E tu quindi hai visto, hai potuto verificare che c'è ancora nei confronti della lirica una grandissima attenzione, a parte i luoghi deputati, come può essere nella Scala oppure altri teatri. Ecco, però nella mia ricerca, anche la regia, adesso fate anche di prosa con i ragazzi del Teatro Caboto a Milano, quindi è la voglia di trasmettere quello che si sa, ma nel campo della lirica forse non vi rendete conto, dico agli addetti ai lavori, che i ragazzi molte volte la traviata non sanno neanche di che cosa si parla. Certo. Allora io dico, perché uno dovrebbe andare a casa, farsi la doccia, vestirsi bene, andare a pagare un biglietto per una cosa che non sa neanche cosa vuol dire? E allora bisogna dirlo, bisogna avvicinare con calma. Sono stato contestato proprio da un signore distinto, un signore avrà avuto la tua età, quindi… Anziano, decisamente anziano. No, della nostra età proprio, che mi dice perché parla, dai la musica e cose. Dico sì, ma vede, lei è un intenditore, io sono solo un appassionato, però tra 50 anni né lei né io ci saremmo più. Se non aiutiamo i giovani a capire, comprendere ed apprezzare questo tipo di musica vanno in discoteca e basta. Certo. Quindi alla fine devo dire che quel signore con le lacrime agli occhi veniva a ringraziare. Con le lacrime agli occhi? Non, no davvero perché mi aveva contestato pubblicamente, è venuto a dirmi grazie, mi ha dato una lezione di… ha ragione. Hai parlato di tua moglie, prima quando discorrevamo tra noi hai parlato di signore, di gentili signore, tu hai qualcosa da suggerire ai nostri spettatori maschi a questo riguardo? Parlando, mi viene in mente la moglie, l'esimia personaggia che ha vinto, che ha avuto ragione del mio casto celibato, queste le definizioni che dava Guaresti. dicevo, no, volevo rivelare un antidoto, perché le mogli, signore diciamo la verità, ogni tanto rompete le germine. L'antidoto, il siero antivipera che ho messo a fuoco e non posso brevettare è quello di uscire di casa quando la moglie esagera, fare un paio di telefonate a gentili fanciulle di bell'aspetto, che dicono, che piacere, come vorrei essere lì con te, ma quando mi porti fuori a cena? Un uomo come te è meraviglioso, sai quelle cose che una moglie non dice mai? Questo è l'antidoto, uno diventa sereno e va a lavorare. E adesso, mentre ci stanno sfumando, direi di dare un consiglio però anche alle signore, in qualche modo dovranno anche loro sopportare l'uomo, no? Sì, loro lo sopportano, è vero, in genere però le signore sappiamo che li ammazzano. E' veramente vero che c'è la vedova allegra, non c'è il vedo allegro, nessun vedo allegro salvo certi saggi che sanno come comportarsi, ma per il resto, ma sai ci sono tante donne.